872.701 e questo è il numero esatto dei viaggiatori transitati per l'aeroporto d'Abruzzo nel 2023 che si chiude con un più 21,9 per cento di passeggeri rispetto al 2022. Il mese dei record è stato quello di luglio con 102.099 persone che hanno scelto di volare da e per l'Abruzzo facendo segnare il numero più alto mai registrato dallo scalo regionale. Il 2024 sarà l'anno dell'allungamento della pista che permetterà all'aeroporto d'Abruzzo di ospitare anche voli intercontinentali e di crescere ulteriormente. Per il governatore Marco Marsilio si tratta di numeri che spengono definitivamente le polemiche del passato avanzate da chi vedeva nell'aeroporto di Ancona il principale concorrente dello scalo abruzzese. Lo scorso anno festeggiamo lo sfondamento dei 700.000 passeggeri chiudendo a 715.000 che era il record storico dell'aeroporto d'Abruzzo. Quest'anno chiudiamo a quasi 900.000. È quindi un aeroporto in salute. Solo negli ultimi due mesi dell'anno si è registrata una stasi, una leggera decrescita. È chiaro che si paga l'assenza del volo su Milano ma questo dipende dal fallimento, dalla crisi aziendale di Ita che ha tagliato voli in diversi aeroporti, compreso il nostro. Stiamo recuperando questo volo lavorando sulla continuità territoriale. Contiamo entro la fine dell'anno di risolvere anche questo problema. Nei prossimi giorni contiamo di aprire anche il cantiere per completare il lavoro sulla pista e quindi allungare la pista per renderla potenzialmente utilizzabile anche ai voli intercontinentali. Qualcuno ha voluto fare il professore in questi mesi additando l'aeroporto di Ancona come un modello esemplare di crescita a differenza di quello dell'Abruzzo. Invito tutti a guardare i dati reali. Il nostro aeroporto fa oltre il doppio dei numeri di Ancona e questo credo che faccia davvero la differenza e chiuda, spero una volta e per tutte, le polemiche che non fanno bene all'Abruzzo. Qui si vola e si vola con record di passeggeri mai visti. Quando io iniziai cinque anni fa la mia avventura, la mia guida della regione Abruzzo, si superava a malapena il mezzo milione di passeggeri, si stava intorno ai 600 mila, adesso sfioriamo i 900 mila. In attesa delle novità riguardanti la stagione estiva che partirà da marzo, Vittorio Catone, presidente della Saga, annuncia di essere al lavoro per rendere ancora più attrattivo lo scalo abruzzese. Io credo che sulla Summer 2023 non ci saranno grandissimi stravolgimenti e sono aperte diverse interlocuzioni con diversi vettori, ma se dovesse capitare qualche buona opportunità siamo pronti.